L'audace Cerignola fa suo anche il derby di ritorno, battendo il Foggia con un perentorio 4-2 al termine di un match pirotecnico. Eppure Mister Somma l'aveva pensata in attacco, un segliei a cuponi e per alta il trio che però non punge. Altra storia sulla sponda di Mister Pazienza che non crede ai suoi occhi nel vedere in meno di un quarto d'ora i suoi hissarsi sul 3-0 al cospetto di cotanti avversari. O Fantini in vantaggio su errore dell'estremo rosso-nero Tiam, conclusione dal limite raso a terra di Malcore. Il portierone Foggiano va a terra ma la sfera gli scorre Beffarda insaccandosi alle sue spalle. Si diceva di un Cerignola mortifero, immediato il raddoppio, ancora Malcore di tacco, tocca un pallone che beffa l'intera difesa pur schierata correttamente. Aschic fa 3-0 mettendosi in proprio, out di sinistra come una prateria, la mette sotto la traversa, incubo Foggia. Ma prima dell'intervallo crosta sinistra di Rizzo, tocco ravvicinato di Garattoni che la riapre. L'inerzia si inverte completamente in avvio di ripresa, dopo che Ogunseie si procura un calcio di rigore che Peterman trasforma per il 3-2. Finale infuocato, spegne i bollori però Malcore che decide di chiuderla, riceve palla, elude difensore e portiere, sigla il 4-2. Spettacolo al Monterisi, due squadre che diranno alla loro sino in fondo.